gentili amici buongiorno e benvenuti ecco le notizie principali di questo numero di saldatura flash l'agenzia di stampa online supplemento la rivista italiana della saldatura questa settimana in prima pagina l'articolo dell'ingegnere rosario russo responsabile della ricerca finanziata che descrive la chiusura di uno dei quattro progetti europei di cui il nostro istituto istituto e protagonista il progetto di formazione professionale europeo e o joy training a seguito del successo dello scorso anno tornano a grande richiesta le olimpiadi italiane della saldatura tra le pagine le foto dei primi classificati per le varie categorie dello scorso anno coloro che desiderano iscriversi e partecipare alle selezioni possono trovare all'interno di questo numero il regolamento con evidenziate le categorie di partecipazione e la scheda di iscrizione per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio stampa è appena uscito il nuovissimo cd tecnico la saldatura nella fabbricazione navale il primo della collana dei cd tecnici che propone il nostro istituto per riceverlo basta compilare la scheda di acquisto che troverete a pagina 8 ricordiamo che saldatura flash è disponibile in formato pdf sul sito exposaldatura.com oppure per richiedere l'abbonamento settimanale gratuito è possibile contattare il nostro ufficio stampa vi ringraziamo per l'ascolto